La domanda nasce spontanea. Possiamo fare qualcosa più che ottimizzare? La risposta è sì, possiamo novimizzare. Sì, lo so. Il problema non è tanto la battutaccia, quanto il fatto che ci abbia anche ragionato per arrivare a farvela. Sapete che cosa c'è? Che dovevo comunque riagganciarmi all'ottimizzazione, certo, avrei potuto trovare qualcosa di meglio, indiscutibilmente, ma comunque dovevo riagganciarmi all'ottimizzazione. Perché dico questo ragazzi? Perché vi ho presentato ben due tutorial e so che avete apprezzato. Il primo era un The Blot fatto su Windows 11, grazie a un favoloso, devo dire, software, programma, che era This is Win 11. Lo potete trovare, logicamente, nel canale, molti di voi l'hanno già visto. Ma è un software, diciamo, sicuramente ottimo, aggiornatissimo, ma un attimino pericoloso, tra virgolette, se non utilizzato, con la giusta attenzione. Vi ho poi presentato anche un altro tutorial che riguardava, appunto, sempre l'ottimizzazione di Windows 11, ma agendo direttamente sul sistema. Devo dire, e qui devo ringraziare il nostro caro Daniele, che mi ha segnalato questo software, nella specifica si chiama Optimizer, ragazzi, e ve lo vado a presentare perché è veramente spettacolare. Che io, devo dire, onestamente, avevo preso un attimino sotto gamba. Dico, ho già fatto due tutorial, che faccio? Ripresento un altro tutorial sull'ottimizzazione? L'ho dovuto fare, ragazzi. L'ho dovuto fare perché è veramente, veramente un ottimo software. Ripeto, ringrazio Daniele che ha insistito nel commento, dice, guarda, io uso quello, provalo. Sono andato, ragazzi, l'ho provato, ed è veramente pazzesco perché è una via di mezzo tra Disiswin 11, e non scordate che è un software portable, quindi lo lanciate e lo chiudete senza problemi, non occupa risorse, ma è molto semplice all'utilizzo. Vi predispone molto meglio perché vi dà, non so perché, almeno a me ha dato questa impressione, ragazzi, proprio una certa sicurezza, e in più è una sorta di tool, di strumenti comodissimi e utilissimi. Ve ne faccio vedere alcuni, ragazzi, che secondo me sono veramente pazzeschi, che io sono convinto che lo utilizzerete sempre, ogni volta che vi servirà, e sono sicuro, essendo un portable, che lo avrete sempre a portata di mano. Ve lo dovevo per forza far vedere, ragazzi, veramente merita. Poi, come al solito, giudicherete voi. Allora, vi ho fatto questa velocissima presentazione, avrei voluto dire molto di più, ma poi vi levavo il gusto, lo dovete vedere. Andiamoci a vedere giustamente come lo otteniamo. Allora, ragazzi, come al solito, vi lascio il link in descrizione, dobbiamo andare semplicemente qua, sul sito di Kitab, dove vedete appunto, Helzer, spero che si pronunci così, Optimizer, questo è il nome del software. Dalla pagina di Kitab, semplicemente andiamo a fare uno scroll, e vedete il programma, appunto, Optimizer, Windows Faster and More Secure, quindi già vi fa capire... Ma, guardate, ragazzi, è fatto veramente bene. Adesso vi faccio vedere una cosa che è pazzesca, sono rimasta a bocca aperta. Guardate, facciamo un leggero scroll. C'è il download, come potete vedere, ci sono tutte le lingue, e ringrazio al Norcello, anche il nostro italiano. Continuiamo un leggerissimo scroll, e dove vedete qui, ragazzi, vedete, c'è download, lo vedete? Qui su download, semplicemente andiamo a fare il click su Kitab.com, Helzer, Optimizer, Elisis, ok? Facendo il click qui, ci porta sulla pagina successiva, dove, ragazzi, vi voglio far notare con molta attenzione, credo che non serva neppure lo zoom, siamo arrivati alla versione 12.6 del 3 aprile 2022. Io l'ho dovuta riscaricare, ragazzi, perché, per l'appunto, avevo utilizzato la versione... Guardate, vi faccio lo scroll, se no non ci credete, poi lo vedreste da soli. Guardate, faccio uno scroll. La versione precedente era la 12.5 del 2 aprile 2022. Alla faccia dell'aggiornamento, ragazzi, cioè è pazzesco, viene aggiornato continuativamente, va a controllare le lingue, va a controllare le utilità interne, ragazzi, è favoloso, fidatevi. Comunque, per rimanere, perché faccio prima a farvelo vedere, dobbiamo andare qui alla versione, per il momento, perché con questa velocità, probabilmente, quando la dovrete utilizzare, magari sarà uscito un nuovo aggiornamento, quindi scaricate sempre l'ultimo, mi raccomando. Vediamo qual è l'ultima versione, ci spostiamo qua in basso, ragazzi, e semplicemente dovrete andare a cliccare su Optimizer, in questo momento è la 12.6.exe. Facendo il solito click, vi partirà lo scaricamento. Essendo un programma non certificato, questo è fuori discussione, ragazzi, vi apparirà come al solito, vedete, allora, dice, non viene scaricato, quindi potrebbe essere pericoloso. Semplicemente, come al solito, cliccate qui sulla freccetta e fate conserva, in modo tale che il programma possa essere scaricato. Ecco, come vedete, me lo ha scaricato. Sarà andato a finire nella directory di download, quindi, essendo un portable, dobbiamo solo lanciarlo, andiamoci a vedere come si utilizza. Datemi solo un secondino per il nostro nuovo sponsor. Non perdetevi l'offerta! Case Fun vi presenta la vendita di primavera a tempo limitato. Offre case legali ed economiche, ufficiali al 100% e attivabili online. Potete trovare offerte veramente vantaggiose, come il bundle Windows 10 Professional più Office 2021 Professional Plus. Per averlo, dovete solo cliccare su Buy Now, fare un click su Add to Cart e proseguire cliccando su View Cart. Verificate prodotto e quantità ed inserite il codice sconto che trovate in descrizione per ottenere il prezzo dell'offerta. Clicca su Proceed to Checkout, inserite la vostra mail, scegliete la forma di pagamento e godetevi il vostro acquisto. Allora ragazzi, ricordiamoci sempre la premessa fondamentale. Quando andiamo ad utilizzare software di questo tipo, per quanto fatti bene come in questo caso, sono software che vanno ad agire sul sistema. Quindi, premessa fondamentale e assolutamente importante, create sempre un punto di ripristino. A meno che non facciate come faccio io, che utilizzate una macchina test, a quel punto, dopo tanti test, riformattate e state a posto. Ma normalmente, se la macchina che andate ad utilizzare è la macchina che utilizzate periodicamente, assolutamente vi consiglio di fare un punto di ripristino. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Passiamo di qua. Non facciamo altro che aprire la nostra classica directory di download e, come potete vedere, all'interno avrete anche voi questo file, che è optimizer12.6.exe. Come vi ho già detto e ve lo ribadisco, è un portable, quindi non occupa risorse una volta chiuse, non dobbiamo installarlo, semplicemente andiamo a fare un bel dopoquick. Ve l'ho fatta vedere questa cosa, ragazzi, perché probabilmente succederà anche a voi, il Microsoft Defender Smart Screen, con questa finestrella blu, vi apparirà normalmente. Dovrete semplicemente fare, non essendo un programma certificato da Microsoft, ulteriori informazioni. Come vedete, cliccando su ulteriori informazioni, ulteriori informazioni, scusate, vi appare esegui comunque. Semplicemente andate a fare esegui comunque. Facendo esegui comunque, vi apparirà la finestra, voi adesso non la vedete, che dovete consentire, ed ecco qui che parte la preinterfaccia di optimizer che va appunto a controllare le specifiche del vostro computer. Quindi già si va a preconfigurare, eccolo qui, ragazzi, guardate quanto è bello, veramente, ragazzi, guardate, vi assicuro sono rimasto a bocca aperta, adesso giudicherete voi. Questa è la finestra che vi apparirà, la prima cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è semplicemente partire qua giù, dall'ultima, guardate, opzioni. Già vi state spaventando perché dice Alessandra, quando tu parti con le opzioni, durano un'ora. Guardate, ragazzi, clicco su opzioni, questa è tutta la schermata delle opzioni. Ve le faccio vedere bene. Allora, mostra menu accesso rapido, ragazzi. Questo assolutamente, vi consiglio di abilitarlo, perché guardate, guardate il mouse, seguitelo, sto scendendo verso qui, le icone in basso a destra, lo vedete? Se io vado a cliccare, fatemi levare, perché al momento, se no, non vedete nulla, ecco qua, mi sono levato. Vedete, ragazzi, qua adesso, nelle icone, io praticamente non ho nulla, ho le icone che riguardano il mio computer Olivetti, perché lo sto facendo girare sul computer Olivetti, appunto, del 15-18, come dico sempre. Se vado qui, quindi, facciamo chiudere le icone, se vado qui, abilito, mostra menu accesso rapido, ragazzi, e ritorno qui nelle icone, già avete visto che è apparso il visto di Optimizer, vi apparirà, eccola qua, ve la faccio vedere bene, l'icona di Optimizer, cliccandoci sopra, con il tasto destro, vi appariranno tutte le opzioni, qua vi sta facendo vedere delle cose che capirete, vedete qui, in kilobyte al secondo, l'upload, il download, ma appaiono tutte le opzioni disponibili immediatamente per l'utilizzo, e vi assicuro che è una cosa veramente, veramente comoda, quindi, mi raccomando, abilitatelo, adesso capirete perché. Poi, mostra suggerimenti, sicuramente lo lascerei abilitato, perché fanno comunque sempre comodo, molto semplicemente qui, cliccando sui vari colori, vi va a cambiare la possibilità del colore dell'interfaccia, e quindi quello sarà una vostra scelta, indiscutibilmente, a seconda delle preferenze, ci sarà la possibilità di verificare gli aggiornamenti, come vedete, di visualizzare eventuali modifiche che sono state fatti negli aggiornamenti o quelle che noi abbiamo abilitato direttamente sul software, cioè gli verranno segnalate, e qui ci saranno eventualmente degli errori che a me non sono mai successi, ragazzi, ma nel caso vi accadessero degli errori, qua potete andare a avere una sorta di report per vedere gli errori che si sono verificati, cioè, ragazzi, vi assicuro ha fatto una cosa, veramente, veramente, a livello di software professionale, mostra cartella di configurazione e reimposta la configurazione, nel caso in cui facciate eventualmente delle modifiche e vogliate ripristinare cosa sapete comodissima, basta semplicemente ricliccare su reimposta configurazione e sarete tornati a posto, qua potete semplicemente cliccare e scegliere una fra le tante lingue, di default, come vedete, viene messo l'italiano e quindi la finestra delle opzioni è già bella che è finita, ci andiamo qui a spostare invece sulla prima casella, sulla prima linguetta che è appunto universale, lo vedete ragazzi? clicco su universale e vi appare questa bella schermatina, cosa diversa che ho fatto in altri software, mi posso permettere di farvi vedere quale sono le opzioni che io ho abilitato, perché ve lo dico in tutta tranquillità, considerate che ho fatto la prova su tutte le opzioni, su tutto il software, ho riavviato il programma, perché logicamente ragazzi, una volta che avrete fatto delle modifiche, il software andrà chiuso e andrà riavviato il computer, io ho visto esattamente cosa è successo, ho provato il computer con le modifiche che vi sto indicando, mi raccomando ragazzi, ricordatevi sempre, questo vi voglio guardare negli occhi, che io lo sto provando per quanto funzionante al 100%, su un computer che è il mio computer ragazzi, non ve lo scordate, ricordatevi sempre che ogni computer è a sé stante, quindi sempre occhio, sempre attenzione, eventualmente alcune opzioni non le gradiste, semplicemente non le selezionate, ma adesso ve le vado a spiegare, ma occhio ragazzi, fate sempre, tenete sempre conto che ogni computer è un caso a sé stante, ma avendo provato il software, avendo fatto ripartire il computer, vi posso assicurare che con una semplicità pazzesca realmente avrete dei vantaggi, andiamoci a vedere la finestra. La prima finestra è l'esempio classico rapportabile di SISWIN 11 come vi ho appena detto, considerate però che mentre il SISWIN 11 e se lo avete già provato lo sapete, va a toccare punti un po' particolari che possono lasciare un attimo interdetti, Optimizer va, e adesso lo vedete, a toccare dei punti che sono molto più tranquilli e ve li presenta con una sorta di finestrella che vi dà molta più sicurezza nell'eventuale abilitazione o disabilitazione e quindi andiamocela a vedere che si è capito che mi piace credo di sì, è vero che si è capito. Allora ragazzi, guardate, questa è la finestra, ve la faccio vedere perché sono veramente semplici, guardate, abbiamo fatto uno zoomino, allora basta che come al solito vi posizionate sulla riga e automaticamente vi appare una descrizione veramente molto molto chiara. La prima funzione e io adesso andrò esattamente ad abilitare tutte quelle che io normalmente abiliterei così può servirvi come punto di inizio di partenza poi fermo restando le vostre preferenze personali. Vedete, la prima è abilita miglioramento prestazioni, assolutamente sì ragazzi, questa andatela ad abilitare assolutamente quindi fate così, ok? Basta cliccarci sopra perché va a applicare determinate funzioni molto semplici e poco preoccupanti come ridurre il tempo d'attesa prima di terminare un processo, ridurre la latenza per mostrare il menu di Windows e via dicendo, semplicemente potete leggerlo, quindi questa assolutamente già va a ritoccare leggermente le prestazioni e vi consiglio di abilitarla. Disabilita rallentamento della rete, questa ragazzia è una funzione particolare di Windows che nel caso in cui vengano possiamo dire aperte delle app multimediali automaticamente un certo processo va a ridurre appunto le prestazioni di rete ma questo può succedere pure per esempio di creare un rallentamento mentre giocate online, quindi questa assolutamente anche in questo caso vi consiglio di disabilitarla, quindi abilitate il pulsantino e disabilitate il rallentamento della rete, ricordatevi sempre che non succede nulla perché nel caso in cui facciate partire un'app multimediale semplicemente quest'app diciamo avrà una velocità di rete leggermente inferiore ma è molto più importante stare tranquilli per altre applicazioni che andiamo a fare sulla rete eventualmente ritornate qui e semplicemente rilevate l'abilitazione quindi e fate ripartire il computer ricordatevi sempre che se volete vedere le modifiche dovete comunque una volta fatte poi per vedere tutte le modifiche effettuate far ripartire il computer la terza disabilita windows defender vi dico subito ragazzi che dalla versione 19.03 di windows 10 e quindi tanto più windows 11 sempre inteso che questo software varia sia per windows 10 sia per windows 11 comunque windows defender non lo potete disabilitare e comunque sapete bene la stima che è nuto nutro 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 per windows defender comunque io personalmente non lo avrei disabilitato poi disabilita smart screen è la finestra blu che vi ho appena fatto vedere non è indispensabile ragazzi ma per quanto mi riguarda la considero comunque almeno un avviso non dico un ulteriore sicurezza ma comunque un avviso che ci fa stare sul chi vive per quanto mi riguarda io non la disabilito quindi la tengo abilitata disabilita ripristino di sistema è un controsenso lo abbiamo appena attivato il ripristino di sistema quindi il famoso punto di ripristino se adesso andassimo a disabilitarlo saremmo dei pazzi quindi anche questo io non lo vado a disabilitare facciamo un leggero scroll disabilita segnalazione errori allora considerate ragazzi qui semplicemente ogni volta che avete un crash del sistema o di eventuali app o comunque errori automaticamente viene creata una sorta di database che nella fattispecie per quanto ci riguarda non ce ne può importare di meno sono dei dati che poi vengono inviati quindi questa assolutamente io la vado ad abilitare come vedete disabilita processi telemetria ve l'ho spiegato anche in disease win 11 sono semplicemente dati che vengono inviati periodicamente al produttore in questo caso Microsoft o eventuali processi che vengono eseguiti nella telemetria quindi come vedete qui specifica Microsoft poi le righe ve le leggete tranquillamente ma normalmente per quanto ci riguarda anche per la nostra privacy non ce ne può importare di meno quindi normalmente io questo lo vado ad abilitare o scusate l'ho disabilitato ok allora disabilita telemetrica office 2016 disabilita la telemetria di visual studio disabilita la telemetria di firefox disabilita come vedete la telemetria di chrome leggete sotto nella descrizione perché la telemetria di chrome è nota per andare a fare un utilizzo abbastanza elevato della cpu in questo caso ragazzi specialmente per esempio se soprattutto se non utilizzate per esempio office 2016 visual studio firefox o chrome questi normalmente giusto se utilizzate chrome ma può comunque sempre essere disabilitata dalla telemetria ragazzi ai fini del rendimento o della tranquillità di utilizzo a voi non cambia niente quindi questi io li andrei a disabilitare tutti e quattro ok ragazzi adesso poi andiamo a fare la pagina intera ritorniamo all'opzione qua in alto disabilita servizio stampa riguarda la vostra stampante anche in questo momento non la stiate utilizzando comunque normalmente una stampante prima o poi viene utilizzata quindi come potete ben immaginare io questa non la disabilito mai disabilita servizio fax ci sono pochissime persone che utilizzano ancora il fax soprattutto negli uffici ma per un utilizzo nostro classico questa è una funzione che assolutamente possiamo disabilitare disabilita condivisione media player non so quanto la utilizziate e non so quanto vi faccia comodo ma molti software possono andare a utilizzare la condivisione per esempio del media player quindi questa è per tranquillità per evitare problemi che al momento magari non verifichiamo immediatamente io normalmente non la vado a disabilitare ok disabilita tasti permanenti qui ragazzi è quel famoso discorso della funzione che cliccando per esempio tre volte di seguito su un tasto vi appare la famosa finestrella disabilita tasti o attiva tasti permanenti nel caso purtroppo ci sia un problema di possiamo dire come dice qua appunto disabilità fisiche questa è una cosa che non va disabilitata perché può far comodo ma nei casi più comuni normalmente questa è una funzione che tranquillamente può essere disabilitata disabilita gruppo home neppure questa io vado a disabilitare perché pur dando per scontato che il gruppo home non lavora più come lavorava una volta nella rete ma comunque è disponibile in un certo modo io normalmente come ben sapete dai tutorial vado a utilizzare spessissimo la rete e avere comunque il gruppo home abilitato non mi dà nessun fastidio quindi non lo vado a disabilitare queste sono opzioni che poi eventualmente scegliete voi disabilita superfetch considerate che il superfetch va a occupare per un discorso che va a precaricare le app che sono già state utilizzate diciamo in ram va comunque a utilizzare grosse risorse nel vostro hard disk quindi assolutamente visto che poi in realtà che la vostra app si carichi prima presumo non ve ne possa importare di meno anche perché è meglio aspettare qualche microsecondi in più ma comunque avere il nostro hard disk che è più libero e non continuamente in lettura perché comunque ci occupa anche spazio quindi questa la andiamo assolutamente a disabilitare come vedete qui disabilità assistente compatibilità riguarda solo i software quelli un po' vecchi quindi se nel vostro computer avete dei software piuttosto vecchi che occasionalmente andate a utilizzare forse non è il caso di disabilitarlo ma se sapete che utilizzate solo software abbastanza recenti o recenti assolutamente questa è un'opzione che normalmente potete disabilitare ricordatevi sempre che nel caso di un programma piuttosto vecchio vi faccio la schermata totale così avete il tempo di verificarla anche nel caso di un programma piuttosto vecchio direttamente cliccando col tasto destro sull'eseguibile del programma ed entrando nella proprietà voi potete comunque pur avendo eventualmente disabilitato l'assistente compatibilità potete automaticamente settare la compatibilità per windows 7 per windows 8 e via dicendo quindi anche disabilitando questa funzione voi comunque potrete intervenire guardate ragazzi ditemi se non è vero se avete avuto qualche dubbio non è come di si su inundici che c'erano mille funzioni che potevano preoccupare guardate che semplicità e abbiamo visto la prima scheda universale andiamoci a vedere l'altra e non avete ancora visto nulla lo so già che questo tutorial come mio solito durerà un tantinello presumo ma fidatevi merita ogni secondo che gli sto dedicando fidatevi non abbandonate guardatelo fino alla fine pazzesco passiamo di qua la seconda finestra ragazzi riguarda come potete vedere vi faccio il solido zoom specificatamente proprio windows 11 lo vedete allora guardate ragazzi non è più nemmeno come la finestra principale ma guardate con che semplicità disabilità strico accesso rapido questo è un errore di ortografia che sicuramente vedrete vista la velocità con il quale fa gli aggiornamenti rimedierà immediatamente questo è semplicemente un errore di scrittura comunque non va altro che a fare a disabilitare l'accesso rapido e i file recenti nel nostro file explorer io per esempio ho una funzione che utilizzo tantissimo normalmente sia l'accesso rapido e sia i file recenti li utilizzo perché tante volte devo rientrare nelle stesse directory che apro più volte quindi assolutamente io questo non lo disabilito vedete voi disabilita annunci menu start vi dico subito ragazzi che per quanto riguarda windows 11 sinceramente mentre windows 10 c'erano presenti in windows 11 dice ragazzi io pubblicità sul menu non l'ho vista dice quello per non sapere né leggere né scrivere io lo vado ad abilitare mi dovessero andare a mettere appunto degli annunci ma fino adesso sinceramente io annunci pubblicitari per il momento non li ho visti comunque lo abilitiamo disinstalla one drive disinstallare one drive ragazzi c'è chi lo fa io per esempio one drive lo utilizzo rarissimamente però è una cosa che visto che può sempre tornare utile io normalmente non lo vado a disinstallare vedete un po' voi disabilita persone ragazzi presumo che molti di voi questa cosa non sappiano neppure che cos'è semplicemente riguarda l'app my person che è strettamente legata alla chat cioè a teams ragazzi quindi se già non utilizzate teams questa la potete assolutamente disabilitare senza problemi ma pur utilizzate teams questa qui disabilita persone quindi my person è un'app che va a gestire con funzionalità aggiuntive il fatto per esempio dei contatti vi permette di metterli direttamente per esempio nella vostra barra delle applicazioni ma ripeto è un'app rarissimamente utilizzata quindi normalmente nei casi normali la potete tranquillamente disabilitare abilita percorsi file lunghi questo non fa altro che abilitare i file per raggiungere praticamente rimuovere la limitazione per i percorsi dei file di 256 caratteri rarissimamente andate a scrivere un file di 256 caratteri però ho visto persone effettivamente che utilizzano questa funzione perché fanno dei poemi sui file proprio con il nome e quindi probabilmente in alcuni casi fa comodo poter arrivare ai famosi 256 caratteri quindi nel caso utilizziate nomi lunghi semplicemente abilitate questa funzione disabilita windows sync ragazzi vale soltanto per la famosa penna nel caso in cui utilizzate appunto la possibilità di disegnare su schermo io sul computer col quale sto lavorando non utilizzo la penna quindi automaticamente per quanto mi riguarda io la vado ad abilitare vedete voi se avete l'utilizzo della penna disabilita controllo ortografia non vi fate ingannare perché riguarda esclusivamente le tastiere touch quindi correzione automatica suggerimento di scrittura controllo ortografia ma esclusivamente per le tastiere touch siccome io alcune volte la tastiera touch la vado a utilizzare per esempio su schermo normalmente non la disabilito ma se non utilizzate mai non l'avete mai utilizzate non utilizzerete mai le tastiere touch automaticamente questa è una cosa capite bene che potete disabilitare disabilita Xbox Live assolutamente si nel caso non abbiate l'abitudine di utilizzare il famoso tasto Windows più G che vi fa apparire appunto la funzione Xbox Live non sappiate neppure cos'è o non abbiate intenzione di utilizzarla in futuro questa è una cosa che tranquillamente potete disabilitare e ottenere un po' di risorse e quindi di prestazione e velocità dal vostro computer qui ragazzi sono rimasto a bocca aperta ve lo giuro sono rimasto a bocca aperta leggete un po' disabilita controllo dpm 2.0 ecco quello che vi dicevo la sostanziale e fondamentale differenza da disease in 11 questo programmatore ha fatto un qualcosa che non solo penso lo stiate capendo è di un utilizzo molto più semplice e va a toccare effettivamente situazioni mirate che ognuno di noi può quasi tranquillamente scegliere di abilitare o disabilitare ma aggiunge queste funzioni che veramente sono da tanto di cappello praticamente che cosa fate andando ad abilitare è qua quindi facendo questo attivando il tasto semplicemente andiamo a inserire nel nostro registro cosa che vi ho fatto vedere e conoscete sicuramente benissimo le particolari righe di registro che ci permettono di bypassare i famosi controlli di microsoft per poter permettere di installare windows 11 su macchine non predisposte solo che come sapete abbiamo dovuto intervenire sempre in tanti modi come fa il registro che vi ho fatto vedere eventualmente facendo la pennetta e rufus qui noi stessimo su windows 10 per esempio abilitiamo semplicemente attiviamo optimizer lanciamo il programma abilitiamo il tpm in questo modo quindi disabilitiamo i controlli e possiamo procedere direttamente con l'aggiornamento di windows 11 e scusate se è poco ma guardate che intelligenza tutto porta e buon ragazzi non ve lo scordate pensate che comodità questo purtroppo non ho avuto modo di provarlo e testarlo perché con tutte le le prove che ho dovuto fare quindi installa disinstalla formatta riprovi per farvi avere la sicurezza non ho avuto modo di provare questa cosa che sono sicuro che funziona perfettamente ma qualcuno di voi avesse la pazienza e ce lo potesse comunicare nella nostra fatemelo dire fantastica community un ringraziamento da parte di tutti ok ragazzi allora io questo per un momento lo vado a disabilitare perché ho già windows 11 ma capite bene che comodità disabilità aggiornamenti e funzionalità non se ne parla proprio ragazzi disabilità aggiornamenti e funzionalità riguarda gli aggiornamenti di windows quelli principali sulle funzionalità la riga stessa adesso io ve la copro ma vi dice che è comunque una cosa abbastanza rischiosa ma vi dico subito non se ne parla proprio perché gli aggiornamenti delle funzionalità sono assolutamente non indispensabili ma quasi è comunque una cosa rischiosa che non va fatta non passiamo alle righe sotto ma andiamo perché ce le teniamo per dopo andiamo alla riga questa della seconda colonna in alto disabilità aggiornamenti automatici stesso discorso ragazzi assolutamente non li disabilitate perché sono comunque aggiornamenti automatici che per l'utilizzo sapete bene di windows sono fondamentali io non li disabilito escluderai dagli aggiornamenti guardate faccio immediatamente così così tanto sapete come la penso vi ripeto per l'ennesima volta driver che funziona non si aggiorna questo che cosa fa vi sta dicendo che gli aggiornamenti di windows sapete specialmente sulle ultime versioni automaticamente cosa che precedentemente non veniva fatta vanno ad aggiornarvi anche i driver se c'è un aggiornamento presente ma vi ho detto mille volte se il driver funziona non lo aggiornate quindi cliccando qua sul tasto andiamo a escludere i driver dagli aggiornamenti che ci fanno stare quel punto più tranquilli perché avremo dei driver che sappiamo che per il momento funzionano e noi non vogliamo assolutamente aggiornare quindi io questo lo vado ad abilitare il tasto disabilita servizi telemetria lo abbiamo detto prima tutte cose che vengono inviate a microsoft che non fanno altro che impiegare banda della nostra connessione o risorse del computer quindi automaticamente andiamo a disabilitare la telemetria l'aumento della privacy ragazzi riguarda queste voci che leggete sotto biometrica geologizzazione condivisione app su più dispositivi possono esserci situazioni dove utilizzate appunto la condivisione con più dispositivi che questa è una cosa che potrebbe servirvi quindi valutate voi se tra queste opzioni sapete che non utilizzate nessuna di queste funzioni frequentemente automaticamente abilitatelo io normalmente non lo abilito perché ci sono per esempio la condivisione delle app che io vado ad utilizzare disabilita appunti cloud questo vediamo se riesco a farvelo leggere meglio allora disabilita appunti cloud riguarda appunto gli appunti che vengono depositati nel cloud per uno scambio di copia e incolla tra i vari dispositivi ragazzi io per esempio questo lo vado automaticamente a disabilitare perché non utilizzo il cloud per fare questa operazione eventualmente voi lo utilizziate capite bene che non lo disabilitate come ho fatto io io non lo utilizzo e lo disabilito cortana cortana si potrebbe disabilitare perché difficilmente viene utilizzata so da tantissime persone che non viene utilizzata ma ricordate che fa sempre parte del sistema operativo io per non saperne leggere ne scrivere cortana non l'ha disabilito vedete voi valutate voi disabilita i sensori ragazzi questo viene utilizzato soltanto per esempio non so per i tablet o per i dispositivi con touch screen per esempio le funzionalità che riguardano i sensori la rotazione automatica la luminosità automatica ma ripeto solo tablet per esempio e dispositivi con touch screen quindi nel mio caso sto utilizzando un portatile che non ha queste funzionalità o un computer fisso io automaticamente vado a disabilitare e mi recupero alcune risorse nel mio computer vedete voi se non avete queste queste opzioni quindi non avete tablet e touch screen automaticamente fate come a me e disabilitatelo remove cast to device allora guardate ragazzi questa funzione praticamente aspettate che ve lo faccio vedere bene non ve la vado a spiegare perché chi già sa cos'è un dispositivo Miracast non ha bisogno della mia spiegazione nel caso non lo sappiate non è questo certo il luogo dove posso spiegarvi cos'è il Miracast ma è semplicemente una possibilità di collegamento per esempio con un dispositivo predisposto tipo per esempio una tv smart quindi una televisione predisposta o altri dispositivi predisposti per il Miracast leggete il vostro manuale di istruzioni del dispositivo andate a leggere su internet cos'è un dispositivo Miracast nel mio caso non utilizzo il Miracast e quindi lo vado a rimuovere e mi riporto mi riprendo delle risorse vedete voi se il vostro dispositivo utilizza il Miracast andate su google disabilità game bar stesso discorso riguardante la xbox bar gaming è una cosa che se non utilizzate il tasto windows più g quindi non sapete nemmeno di che sto parlando e non avete intenzione di saperlo semplicemente qua andate a liberare risorse quindi disabilità del game bar disabilità insider service stesso discorso se come me avete bisogno alcune volte di entrare nel programma windows insider sapete bene per discorsi di tutorial o situazioni dove avete una macchina dove volete provare proprio l'ultimo aggiornamento di windows allora questo non lo disabilitate ma nella stragrande maggioranza dei casi sapete bene che il programma windows insider vi mette a disposizione un aggiornamento assolutamente instabile specialmente se scaricato dal canale dev quindi nel caso non abbiate intenzione di unirvi al programma windows insider automaticamente disabilitatelo vi levo lo zoom in modo che potete vedere avete la schermata totale di quello che sono andato con tutte le spiegazioni di abilitare e disabilitare mi sono venuto alla parte sotto perché è quello che vi sto dicendo sempre rapportata a disease win 11 qua sotto ci sono delle funzioni che non fanno più diventare solo un software spettacolare fatemelo dire di ottimizzazione ma diventa un vero e proprio tool guardate che cos'è qua ragazzi allora vedete qui aspettate andatemi a fare lo zoom eccolo qua a linea barra delle applicazioni a sinistra lo vedete ragazzi guardate se io vado a cliccare tacchete la nostra barra come vedete qua sotto si è andata mannaggia i widget ma come vedete questa è una delle funzioni che non c'è bisogno di riavviare il pc ragazzi semplicemente io ci riclicco e la mia barra come vedete mi è tornata al centro quindi alcune di queste funzioni le potete vedere direttamente disabilità snap assist devo levare lo zoom perché riguarda ragazzi guardate il mouse vado qua in alto a destra mi sposto qui sul quadratino ed è praticamente la funzione che riguarda la possibilità di ordinare le finestre questa è una funzione che io devo dire ragazzi mi piace tanto funziona veramente bene e quindi non la vado mai a disabilitare perché è una funzione che utilizzo vedete voi se è il caso di disabilitare lo snap assist guardate un po' qua ragazzi disabilita widget guardate ragazzi quanto l'odio eccolo qua vedete l'ho appena sfiolato quindi devo passare qua io che cosa vado a fare guardate il widget sotto qui in basso e che te me l'ha levato che goduria ragazzi lo so si capisce mi stanno proprio qua per non dire di peggio non proprio non mi danno fastidio poi passi il mouse ti viene automatico chi utilizza windows 10 di andare da questa parte ogni volta mi si apre questa finestrona un odio ragazzi facendo questo come vedete basta ricliccare vi faccio ritornare ma siccome mi stanno profondamente sulle orecchie io riclicco sono una persona educata e disabilito il widget che non ce l'ho più ok ragazzi ma che comodità poi disabilità chat stesso discorso ragazzi guardate qui l'icona la vedete l'icona della chat questa con la della camera ci sono sopra con il mouse se io vado a disabilitare come vedete mi è sparito Teams cioè la chat semplicemente ci riclicco e mi riappare la chat ma guardate come è stato intelligente funzioni che sono sicuro che vi faranno comodo questo è un portable optimizer che lanciate in qualsiasi momento ma quanto può essere comodo e ditemi se non vale ogni secondo che vi sto spiegando guardate è fatto proprio bene poi riduci barra delle applicazioni stesso discorso vedete quanto è alta la barra in alcuni casi per esempio video editing sapete di che cosa sto parlando vi ho presentato un tutorial favoloso poco tempo fa di un programma favoloso non favoloso il mio tutorial ci mancherebbe ragazzi era favoloso il programma è favoloso il programma ma in quel caso per esempio vi serve una barra più corta facendo riduci barra delle applicazioni purtroppo io posso pure cliccarlo ma in questo caso dovrei riavviare windows automaticamente la barra mi diventa più piccola e vi assicuro che in certe situazioni fa veramente veramente comodo abilita menu classico in explorer e abilita menu classico sul tasto destro allora ragazzi vi posso subito anticipare lo avrete capito che abbiamo presentato vi ho presentato nei tutorial o esistono dei software che fanno specificatamente solo questa cosa ok qui è tutto contenuto e siamo alle prime due finestre le altre sono molto più veloci non vi preoccupate ma guardate che cosa fa se io vado ad aprire il file explorer fate caso attentamente all'explorer di windows 11 lo vedete qui sopra ci sono delle icone in grigetto questa barra è un po' più stretta questo fotografa la tela del file explorer di windows 11 stesso discorso per quanto riguarda il discorso del tasto destro se io clicco il tasto destro come sapete abbiamo qui mostr'altro opzioni che bisogna cliccare per avere l'ulteriore menu e anche questo voi sapete bene se io vado ad abilitare queste due funzioni ragazzi scusatemi dovrei purtroppo riavviare windows perché la modifica come posso farvi vedere con il clic destro non è stata effettuata ma molti lo sanno molti non lo sanno quindi sarà un trucchetto che vi farà comodo semplicemente fate ctrl alt cance date l'ok sul clic di gestione attività ed aprite le vostre gestioni attività andate a fare uno scroll se volete vedere subito il cambiamento fino a che non arriverete all'icona che vi faccio vedere bene eccola qua ragazzi di esplora risorse lo vedete cliccate con il tasto destro e semplicemente levo lo zoom fate riavvia ok ragazzi a questo punto io ho riavviato andiamo a buttare giù il nostro la nostra gestione attività guardate che cosa succede avendo riavviato il file explorer tacchete lo vedete il vecchio file explorer quanto è bello se preferite il vecchio file explorer vecchio tra virgolette perché ieri praticamente io ancora li sto utilizzando su windows 10 semplicemente abilitate questo tasto e avrete file manager nella versione quella che magari preferite stesso il testico discorso se vado a fare clic con il tasto destro in un punto dello schermo e do il menu classico del tasto destro di windows 10 punto che comodità e venitemi a dire che non è comodo semplicemente disabilitiamo un'altra volta queste due opzioni ritorniamo nella nostra gestione attività che ci andiamo a far ripartire andiamo su esplorare risorse facciamo riavvia e abbiamo ripristinato immediatamente la situazione come potete vedere con il tasto destro di windows 11 stesso discorso per il file explorer e venitemi a dire che non utilizzate questo software ragazzi lo vedete non mi sto limitando non so quanto durerà ma poi me lo saprete dire fidatevi vale veramente ogni secondo che sto perdendo e non è perdendo per farvi vedere tutte le funzioni perché veramente le vale seconda finestra passiamo alle altre bello eh non so perché mi ispira proprio ragazzi e comunque le prossime due finestre sono anche più veloci andiamo di qua ragazzi guardate la prossima è come potete vedere app UWP ok ragazzi qui lo capirete subito se avete già utilizzato Disiswin 11 che semplicemente va a disinstallare quelle app che appunto sono indesiderate come vi ho però già detto in Disiswin 11 ragazzi questa è una cosa che va fatta con molta 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 attenzione ragazzi semplicemente io vi direi a meno che non non abbiate appunto le capacità tecniche per valutare con sicurezza cosa state eliminando io guardate così ve lo faccio vedere andrei semplicemente a cliccare su Disney a meno che non abbiate dei ragazzini dei bambini appunto o vi interessasse questa situazione ma normalmente Disney sicuramente lo vado a levare poi non tocco nulla ragazzi vedete vado a fare semplicemente uno scroll fino a arrivare qua giù quasi alla fine dove avrò eccole qua ragazzi tutte le app che riguardano come vedete c'è scritto le Xbox vedete quindi andrei a levare a disinstallare eventualmente tutte queste che riguardano l'Xbox qua ragazzi vi faccio uno zoom c'è anche Microsoft Your Phone Microsoft Your Phone considerate che è un'app che serve per collegare il vostro cellulare ma funziona solo con determinate almeno per il momento e non si sa quando questa cosa cambierà solo con determinati modelli di smartphone sappiate per certo che il vostro smartphone o quello magari di una persona della vostra famiglia non è predisposto per Your Phone automaticamente ragazzi andate a disinstallare pure questo levate queste app che vi ho appena fatto vedere quindi Disney e queste che vi sto facendo vedere adesso io non toccherei assolutamente nulla ragazzi una volta a meno che non abbiate ripeto la competenza necessaria una volta stabilito cosa vuole disinstallare semplicemente dovrete cliccare qua ragazzi ve lo faccio vedere bene su disinstalla e andrete a disinstallare appunto queste app guardate ragazzi tenete sempre il flag su mostra solo app removibili perché altrimenti vi fa vedere tante altre app che si possono rimuovere ma non è assolutamente il caso di fare quindi quanto più che qua vi segnala che se disinstalla in lo store non sarai in grado di installare nuove app UWP quindi una nuova app che magari sarà disponibile voi non la potrete installare quindi qua a parte quello che vi ho segnato io non andrei a toccare nulla ragazzi assolutamente anche perché poi il vantaggio che non terresta non è così esagerato ok ragazzi poi ripeto se avete la competenza ben venga qua a quel punto fatto disinstalla l'unica pecca rispetto a disiswin11 che disiswin11 aveva dei bottoni che permettevano automaticamente di reinstallare subito le app che avevamo disinstallato qua invece una cosa una prova che devo fare che onestamente non ho fatto è se poi potendo andare a rimettere flag eventualmente me li installa ma il bottone che invece era presente in disiswin11 qua purtroppo non c'è giusto ma questa guardate è veramente l'unica pecca se di pecca si può parlare ma così non è di questo optimizer per il resto ragazzi fatemelo dire si lo preferisco notevolmente è fatto proprio bene 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 la finestra successiva è quella di avvio anche questa ragazzi è un qualcosa di molto relativo perché qui vedete che abbiamo delle app praticamente delle applicazioni e lui dice scegli cosa mantenere in avvio non so se riuscite a leggerlo vedete scegli cosa mantenere in avvio in questo momento a me mi sta segnalando essendo il mio Olivetti totalmente completamente vuoto perché lo uso per i tutorial semplicemente due percorsi che sono già semplicemente delle applicazioni di sistema quindi indipendentemente dal fatto che io metta un flag su queste due applicazioni queste applicazioni rimarranno comunque già nell'avvio ci siete ragazzi ma abbiate inserito diversi programmi nel vostro computer lui vi segnalerà anche altri programmi che molto semplicemente voi semplicemente andrete a mettere qui un flag come sto facendo io in questo momento e anche se quell'applicazione precedentemente non partiva direttamente l'avvio di Windows avendo voi smesso il flag e dicendo appunto che la volete al successivo avvio automaticamente quell'applicazione vi partirà nell'avvio senza dover fare esecuzione automatica qui semplicemente mettete un flag un flag scusate e l'applicazione al prossimo riavvio automaticamente parte con l'avvio di Windows tutto qui con un semplice click ma non fosse contenti già di questo grande vantaggio andando semplicemente a selezionare come faccio io uno o qualsiasi di programmi che vi verranno presentati quindi dei file che vorrete inserire nell'avvio potremmo fare come vedete qua sotto un backup e un eventuale ripristino potremo come vedete qui cliccare su trova nel registro e automaticamente ci aprirà la finestra corrispondente a quel determinato percorso nel file di registro ma quanto può essere comodo adesso so che molti non lo utilizzeranno ma vi assicuro che in certi casi per noi è fondamentale oppure semplicemente cliccare qui su localizza file qua in basso a destra ragazzi localizza file e automaticamente vi aprirà la directory corrispondente che contiene il file in questione ragazzi ma quanto può essere fatto bene cliccare su aggiornare semplicemente va a fare un aggiornamento di questa finestra ma ripeto quanto può essere comodo e scusate se poco andiamoci a guardare la finestra successiva le finestre successive tranne l'ultima finestra che mi tengo per ultima ve le faccio vedere tutte insieme perché l'ultima ve la voglio come si sol dire spizzare perché veramente mi ha lasciato a bocca aperta passiamo di qua ragazzi la finestra successiva è quella che vedete contraddistinta dalla descrizione app comuni chi ha già una certa pratica con un software chiamato Ninite già sa di che cosa parliamo cioè è riuscito a pensare di inserire qui su optimizer anche questa funzione in breve cosa fa ragazzi esistono tutte queste applicazioni già divise per colonna e per categoria perché come potete vedere ve lo faccio vedere bene sistema e strumenti internet programmazione e video e suono queste sono applicazioni che sfido chiunque a dire che parte di queste applicazioni non le ha già sul computer winrar winzip 7zip vlc sono applicazioni che normalmente soprattutto se formattate e ricaricate sono applicazioni che normalmente vi andate sempre a scaricare e a utilizzare lui qui vi fa come Ninite cosa vuol dire cosa fa Ninite io posso andare semplicemente a scegliere qualcosa che voglio scaricare fate finta eccolo qua io voglio andare a scaricare 7zip lo vedete ragazzi ho messo il flag oppure mi può servire winrar non lo so basta che clicco e lo flaggo io a questo punto ho segnato 7zip winrar da poter scaricare ci siamo e sto sulla prima colonna cosa fa questo software guardate io vado scendo verso il basso e vi faccio uno zoom innanzitutto ci permette di impostare la cartella di download che lui ci dà per predefinita ma che noi comunque come ben sapere possiamo cambiare vedete qui che c'è in attesa mano a mano che i software vengono scaricati la barra va in caricamento ci permette di scegliere sempre se disponibile da parte dell'applicazione che andremo a scaricare se noi preferiamo le applicazioni a 64 bit o le applicazioni a 32 bit abbiamo un sistema di vecchia generazione magari preferiamo che ci vengano scaricate tutte queste applicazioni che abbiamo scelto ma a 32 bit ma non solo una volta che abbiamo fatto la scelta logicamente io sceglierò 64 bit voi vedrete posso mettere un flag qua vedete e installare dopo il download quindi non solo se clicco su vai io download vedrò tutti i software che mi sono stati scaricati ma una volta fatto scarica una volta selezionate le applicazioni e avendo messo il flag su installa dopo il download lui semplicemente cliccheremo su scarica ce le scaricherà ce le metterà nella nostra direttoria di download e ce le installerà ragazzi ma quanto può essere stato intelligente di mettere una finestra come questa delle app comuni in un software come questo ditemi quanto può essere utile questa cosa ci sono software che fanno solo questo voi avete in tutt'uno ecco perché vi ho detto nella miniatura ottimizzare e migliorare perché questo non è semplicemente un software di ottimizzazione è un tool a tutti gli effetti ma quanto può essere fatto bene passiamo subito alla finestra successiva che come potete vedere è pulizia lo vedete ragazzi cosa assolutamente semplice esempio classico lo nomino sempre privazzer va a fare una pulizia del vostro computer privazzer arriva a tutt'altro livello ma doveste fare una cosa veloce perché magari avete fatto già una pulizia recente con privazzer e al momento vogliate fare una pulizia ottima ma diciamo più leggera qui semplicemente cosa dovete fare ragazzi vi faccio lo zoom dovete andare a cliccare su quello che volete selezionare per esempio io seleziono automaticamente i file temporanei e i mini dump bsod i mini dump bsod ragazzi non lo sapeste è semplicemente una sorta di piccoli file che vengono creati ogni volta che c'è un errore tramite bsod che corrisponde alla dicitura inglese schermata della morte che sarebbe la famosa bruttissima schermata blu che vi appare quando avete un errore irreversibile ecco quegli errori generano dei piccoli file chiamati mini dump bsod che assolutamente non servono a nulla a noi ma ci occupano comunque un minimo di spazio quindi voi dovrete andare a fare il click su tutte le cose che vorrete selezionare che vi possono interessare vengono levate cache cookie storia sessioni mozilla firefox la cache quindi ragazzi è facilmente intuitibile non ve lo devo certo spiegare dopo di che dovrete cliccare qui su analizzare come vedete e poi semplicemente fare click su pulisci lui qua vi segnalerà pure quanto potete liberare mano mano che andrete a fare queste selezioni quindi automaticamente capirete quanto spazio liberare ma cosa gli volete dire ragazzi ma fatto guardate come è pulito guardate come invita a provare io non lo so perché mi fa questa impressione spero lo faccia anche voi ma non impensierisce è vero o no ragazzi allora passiamo a quella successiva come vedete la finestra è ping lo vedete ragazzi ping ve ne ho parlato vi ho fatto anche un tutorial qua ragazzi è molto molto semplice io ho già inserito uno 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 che non è altro ve lo faccio vedere qui l'indirizzo ping che lui suggerisce per fare un test che è quello di cloud flare ok ragazzi allora guardate io ho cliccato qua su uno 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 e automaticamente mi è andata a mettere una prova se io adesso faccio esegui cosa che io ho già fatto precedentemente ma se faccio esegui come vedete mi parte il test per vedere la mia latenza quindi mi darà anche una latenza media di quanto la mia banda abbia una connessione da qui a cloud flare e quindi di conseguenza mi fa vedere come vedete qui vi ho spiegato il ping avrò una latenza minima 17 massima di 18 e media di 17,67 io in un attimo ho fatto il famoso test ping che vi spiegavo nel tutorial ragazzi posso cliccare qua e fare apri connessione di rete e mi va automaticamente alla mia finestra di rete dovessi fare un qualsiasi intervento che giustamente contempla la rete o addirittura cliccando qua come vedete su svuota cache dns posso andare a svuotare i miei dns e magari inserirle degli altri e mettere altri dns più veloci non ve lo spiego qua dovreste sapere di che cosa sto parlando i tasti qua sotto fanno controlla e copia l'eventuale ip che serve semplicemente per effettuare altri test avete anche questo non ci bastasse quello che già ci fa come ottimizzazione e come pulizia e come miglioramento ci ha messo anche il test dell'ip ma qua mi piace proprio ragazzi poi passiamo alla finestra successiva guardate questa è la finestra host lo vedete questa è una cosa che i ragazzi presumo che la diranno molto perché normalmente il file host qua lo potete utilizzare vedete che c'è scritto guardate ve lo faccio vedere bene indirizzo ip e dominio io qua volessi per qualche motivo assurdo inserire per esempio quindi fare in modo che il file host faccia un determinato blocco quindi non acceda voi sapete che il file host è il file principale che viene caricato all'avvio di windows è un file che spesso viene toccato dai ragazzi che giocano perché devono utilizzare determinati giochi che non devono accedere all'internet non mi fate andare oltre ma chi utilizza i giochi di un certo tipo va spesso a mettere mano sul file host e andare a modificare il file host ragazzi comporta entrare in una diretta ricercarlo trovarlo aprirlo sproteggerlo fare le modifiche risalvarlo e dopodiché riavviare il computer qui ragazzi voi semplicemente guardate con quale semplicità potete aggiungere qua mettete un indirizzo adesso non è l'indirizzo esatto 192 ma qui semplicemente andiamo a mettere un indirizzo ip qualsiasi e sotto per esempio scriveremo google.com andiamo a fare aggiungi ce lo mette da questa parte automaticamente questo indirizzo che noi abbiamo messo ci viene inserito nel file host quindi la nostra macchina la nostra rete non accederà più a quell'indirizzo quindi noi siamo protetti contro quell'indirizzo ma questo è l'indirizzo e questo è l'utilizzo più banale per i ragazzi che invece normalmente devono andare a fare modifiche di un certo rilievo basta cliccare qua ragazzi lo vedete ve lo faccio vedere su editor avanzato guardate se io clicco su editor avanzato mi si apre il mio file host che al momento è totalmente completamente vuoto perché è una macchina che io utilizzo per i test ma qua sotto i ragazzi saprebbero bene che andrebbero semplicemente o a scrivere o a fare un copia e incolla sanno i ragazzi di che cosa sto parlando delle varie righe che devono essere aggiunte quindi che creano la limitazione all'accesso esterno semplicemente dovrebbero fare salva e il loro file host con un semplice click è stato modificato se non l'avete mai utilizzato non ve ne rendete conto ma chi già utilizzato e sa cosa vuol dire fare queste operazioni con questo semplice click ragazzi qui non è da tanto di cappello qui ragazzi è da tanto di cappelli perché come ci ha pensato a inserire questa finestra ragazzi vi assicuro è grandioso poi passiamo qui alla finestra successiva che è registro ragazzi lo vedete il registro cosa molto molto comoda e di una semplicità unica ecco perché vi predispone all'utilizzo qui potete avere delle situazioni spesso succede che in windows per un motivo per programmi che sono stati installati e cancellati un cambio di configurazione qualcosa di sbagliato possono succedere che alcune applicazioni di windows stesso tipo la gestione attività il prompt dei comandi il pannello di controllo le opzioni di cartella la finestra esegui possano non funzionare come si deve addirittura lo stesso explorer può avere degli come possiamo dire degli intralci può bloccarsi qui ragazzi non dovete fare altro che o cliccare come vedete su abilita tutto e come vedete si seleziona eventualmente lo facciamo anche per quanto riguarda explorer e fare ripara normalmente se vedete che il tutto funziona e non c'è nessun problema vedo assolutamente inutile fare questa cosa ma visto che non comporta nessun problema farlo ci ho provato ragazzi se non c'è l'errore lui non fa nulla ma altrimenti va a fare una sorta di reset e di come possiamo dire ripristino dell'eventuale applicazione che non funziona questo tutto con un click andate a vedere su google cosa dovete fare per capire come ripristinare per esempio una gestione attività che non funziona qui mettete un click e fate ripara e scusate se è poco una volta che abbiamo lasciato il nostro registro e fino a qua è veramente semplice possiamo andare a cliccare sulla finestra successiva che è hardware guardate qui ragazzi clicco su hardware posso salvare questa schermata o copiarmela logicamente e quindi poi eventualmente anche stamparla ma vi faccio uno scroll guardate ho tutte e dico tutte le caratteristiche guardate quanto è lunga e le specifiche del mio computer poteva evitare potrebbe non servire a nulla quando invece seguendo Tutora ve l'ho detto mille volte voi sapete in quante occasioni faccia comodo avere questi dati e ditemi voi se sto esagerando questa era l'ultima perché poi c'è integrazione opzioni ve l'ho fatta vedere integrazione me la sono tenuta per ultima perché ragazzi ve la devo far vedere e qui ragazzi l'autore si è veramente superato con molta modestia la prossima finestra la chiama semplicemente integrazione adesso capite perché dico questo spostiamoci di qua siamo come potete vedere in integrazione lo vedete ragazzi ve lo faccio vedere bene ok la prima schermata vi dà semplicemente una sorta di riassunto di premessa di quello che potrete fare con questa finestra il tutto ragazzi si svolge qua in basso con queste scelte dove info è quello che vi sto dicendo adesso del riassunto aggiungi modifica rimuovi ridi menu e finestra esegui ok ragazzi guardate faccio prima a farvelo vedere inutile che vi leggo le info mi sposto sulla prima scelta aggiungi modifica qua in basso vi appare questa finestra questa cosa io ve l'ho già fatta vedere in un altro tutorial ma vi permetto subito che per fare questa operazione bisogna normalmente utilizzare dei software che fanno appositamente questa funzione e vi posso assicurare che questi software che vi sto citando non fanno neppure tutte le cose che invece avete qui integrato in optimizer pazzesco qui veramente mi ha lasciato a bocca aperta ragazzi guardate attenzione a questa cosa importante perché questa cosa che andremo a fare voi potrete farla per un eventuale comando per un programma una cartella un link che utilizziamo molto spesso un singolo file o addirittura andare a utilizzare quindi far apparire un vero e proprio comando a cosa mi riferisco al famoso clic con il tasto destro che vi ho fatto vedere in un tutorial dove vengono inserite delle opzioni immediatamente disponibili e ragazzi non finisce qua non avete idea ma guardate con quale semplicità si riesce a fare se io in questo momento clicco con il tasto destro e vado in mostra altre opzioni come potete ben vedere io ho solo le opzioni normali disponibili lo vedete ragazzi quelle classiche ci siamo ma fate per esempio un caso tipico lo utilizzerete probabilmente anche voi stiamo utilizzando optimizer giusto optimizer noi dovremmo andare nella nostra direttoria di download fare il doppio click è un portable quindi ci farebbe molto comodo che cosa faccio ragazzi vedete che qui c'è la classica possibilità di scelta con i tre pallini io semplicemente ho scelto programma perché avrò bisogno che parta questo programma vado a cliccare su questi tre pallini so che il mio programma sta qui nella mia directory di download come vi posso far vedere ecco qua optimizer non ci vado altro che a fare un semplice doppio click guardate un po' che cosa è successo mi ha automaticamente inserito il percorso lo vedete ragazzi bene potrei eventualmente andare a fare un click qua levando il flag e cambiare anche l'icona ma normalmente se ha un programma e ha la sua icona utilizzeremo quella sua quindi io vado a lasciare il flag sull'icona del programma dove lo voglio sul mio menu del mouse col tasto destro in alto sulla finestra al centro della finestrella che appare o in basso posso sceglierlo voglio che questa opzione di questo comando di questo programma appaia solo quando tengo premuto il tasto shift come vi ho fatto vedere in quell'altro programma semplicemente metto un flag però a quel punto dovrei tenere premuto lo shift io invece voglio che il comando appaia sempre senza tenere premuto il shift e levo il flag mi va bene che il nome sia optimizer 12.6 certo che si mi sta bene però potrei anche cambiarlo devo andare a cliccare qua semplicemente su aggiungi modifica punto ho cliccato come vedete è sparito tutto vado a ricliccare con il tasto destro rivado in mostra altre opzioni e come potete vedere ragazzi ve lo faccio vedere con lo zoom ecco qua optimizer 12.6 quanto ci abbiamo messo con tutta la spiegazione possiamo aggiungere ragazzi non ve lo scordate cartelle singola cartella ce la troviamo nel menu destro il link abbiamo un sito che visitiamo spesso io ho il mio sito quello di easy computer mi farebbe comodo col tasto destro tanto è vero che lo utilizzo perché non devo più riandare in chrome io ho il tasto destro sono sul mio sito un file che utilizziamo spesso in avvio dobbiamo farlo partire mettiamo il file ci serve un comando per un'operazione particolare inseriamo il comando non ci sta bene non ci serve più perché a me a questo punto optimizer non mi piace scendo qua in basso mi sposto qua su come potete vedere rimuovi e lui mi farà l'elenco di tutto quello che ho aggiunto optimizer 12.6 semplicemente in questo momento non devo selezionarlo perché è l'unico altrimenti dovrei selezionarlo e faccio rimuovi potrei fare aggiorna ma faccio perché magari ho inserito qualche cosa che non appare in questo momento non c'è nient'altro faccio rimuovi vado a cliccare con il tasto destro arrivato a scegliere mostre altre opzioni e automaticamente come potete vedere non ho più nulla qua in alto ma quanto ci abbiamo messo ma quanto può essere fatto bene ma possiamo non contenti perché Alessandro ma questa è una cosa che magari si trova in altri programmi certo giusto ma qui avete tutto insieme ma non siamo contenti non ci basta e andiamo su ridi menu lo vedete ragazzi io clicco su ridi menu ci siamo mi ha messo a disposizione ci ha messo a disposizione tutti dei menu da inserire nel tasto destro già disponibili e pronti mi spiego meglio aggiungi un menu del tasto destro un menu spegnimento non lo dobbiamo costruire è già fatto ma voi avete capito quanto è bravo cioè ma è stato veramente in gamba non tanto e soprattutto per come è costruito il programma ma per l'intelligenza di quello che è andato a inserire guardate ragazzi ripeto è vero che io lo presento con enfasi ma se le merita tutta l'enfasi è proprio in gamba guardate aggiungi menu di spegnimento aggiungi strumenti di sistema aggiungi app di windows aggiungi scorciatoie e via dicendo ma per farvi capire chiaramente che cosa fa aggiungi menu di spegnimento ragazzi lo vedete fa comodo poter avere le opzioni di spegnimento con il tasto destro tant'è vero che esistono software che si devono installare proprio per fare quello io qui semplicemente vado a cliccare su aggiungi menu spegnimento ci ho cliccato in questo momento ok ragazzi sembra non che sia successo nulla io mi risposto qua clicco con il mio tasto destro vado a fare mostra altre opzioni e guardate un po' che cosa mi è apparso ve lo faccio vedere bene mi è apparso il menu power menu dove io qui avrò la possibilità di chiudere la possibilità di fare una disconnessione la possibilità di fare un'ibernazione fare un restart classico o semplicemente uno shutdown o uno shutdown ibrido che mi mette in ibernazione ragazzi con un clic io ho tutte le opzioni di spegnimento ma potrei aggiungere tutte queste altre che vedete già pronte fermo restando che me le potrei costruire stesso discorso non mi interessa più questo comando nel tasto destro mi risposto qua in basso su rimuovi come vedete mi è apparso power menu rifaccio rimuovi e automaticamente dal mio tasto destro se vado un'altra volta e mostro altre opzioni non avrò più l'opzione adesso non la vedete ma non c'è più ok ragazzi una volta che sono andato nel menu esiste però l'ultima anche finestra non contenti di quello che già abbiamo avuto fino a questo momento che è finestra esegui lo vedete ragazzi guardate un po' qua ragazzi vedete questa cosa ci sono già dei comandi che possiamo eseguire tranquillamente che vengono riconosciuti nel nostro menu di ricerca esempio classico capite prima io vado a cliccare sul mio tasto di ricerca normalmente privazer che io uso spessissimo nel mio computer che uso per i tutorial non lo metto sul desktop perché mi va a occupare spazio non serve non ce n'è bisogno quindi io dovrei andarla a ricercare nei percorsi della cartella ammesso che me lo ricordo dove l'ho messo perché altrimenti se vado nel campo di ricerca non essendo un comando di sistema lui mi andrebbe a fare una ricerca su internet non nel mio computer esempio classico vado a scrivere guardate più chiaro di così privazer come potete vedere non mi appare nulla nessun risultato perché lui non ha riconosciuto privazer come comando da eseguire cosa vado a fare io guardate ragazzi semplicemente posizione file clicco sui tre puntini vado dentro la mia directory che so che sta nel disco locale C dentro la directory privazer vedete i passaggi che devo fare e vado poi a cliccare su privazer due volte quindi inserisco come abbiamo fatto prima il percorso la parola chiave io la posso cambiare posso dire che devo scrivere tutto privazer per farmelo trovare oppure potrei scrivere solo priva per esempio posso modificarla alla parola chiave come preferisco ma quando è il momento io andrò a cliccare qua su crea guardate ragazzi e vado a riaprire il mio campo di ricerca a questo punto se io andrò a scrivere privazer guardate un po' che succede ragazzi ecco qua che automaticamente ho inserito il comando per qualsiasi eseguibile parola chiave di comando di richiamo io voglia inserire nel mio campo di ricerca ragazzi venitemi a dire che vi ho fatto perdere tempo credo si sia capito chiaramente veramente se potessi stringere la mano a questo analista a questo autore a questo programmatore veramente se ne meriterebbe due perché non tanto per il programma che hanno fatto in molti ma per l'intelligenza di creare questo software che sfido ragazzi venitemi a dire che non utilizzerete e che non vi fa comodo perché è fatto proprio bene 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 aggiornato praticamente ogni giorno cosa volete di più ragazzi se non lo scaricate vi assicuro il problema è il vostro non ci guadagno io non ci guadagnate voi non ci guadagna poverino nemmeno l'autore ma veramente merita tutta la stima e la riconoscenza che uno può dargli ditemi voi se sto esagerando credo che come al solito sarà durato tantissimo ma penso che questa volta veramente mi sia valsa la pena ditemelo voi se ho esagerato tanto io esagero sempre ormai mi conoscete avrete pazienza ragazzi ve l'ho fatto con il cuore un grandissimo abbraccione come al solito e ringraziamento voi lo sapete con tutto il cuore buona serata e ci vediamo al prossimo tutorial grazie a tutti grazie a tutti